Fratelli e sorelle, buona giornata. Iniziamo la seconda settimana di Quaresima ascoltando il Vangelo di Luca al capitolo 6. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e vi sarà perdonato, date e vi sarà dato. Una buona misura, pigiata, scossa e traboccante, vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio. Gesù oggi ci indica la via della felicità e della pace. Le parole che abbiamo ascoltato probabilmente non erano mai state dette da nessuno. Siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. Dobbiamo ammettere che anche oggi queste parole sono in qualche modo estranee alla cultura della nostra società. Sentiamo spesso dire che sono affermazioni belle ma di certo non realistiche. Eppure solo in queste parole il mondo può trovare salvezza, può trovare motivi più che validi per fermare le guerre e soprattutto lo stimolo per costruire la pace e la convivenza tra i popoli. Per Gesù non ci sono più nemici ma solo fratelli e sorelle da amare, eventualmente da correggere e comunque sempre da aiutare nel cammino verso la salvezza. Buona giornata!